Vi è mai capitato di avere a che fare con un cliente dove passi ore a fare offerte, ore a fare mega discussioni, le call, le demo, siamo arrivati in fondo, però se mi aggiungi questa modifica e tu sei lì che remi, 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 perdi un sacco di tempo e poi ti arriva la chiamata, la mail, se ti arriva perché spesso spariscono questi bastardi, abbiamo cambiato priorità e ci ragioniamo sulla prossima. Ma sulla prossima cosa? Ma hai fatto perdere un sacco di tempo? Ma che cosa la prossima? Siccome siamo circondati di gente così, dove perdi la vita dietro gli interessi degli altri e poi non porti a casa nessun risultato, sul lavoro amici siamo costretti a diventare dei maestri jedi in grado di intercettare e comprendere subito se abbiamo davanti un fanno perdere tempologo oppure no. Come si fa a stanarli subito? Due consigli, il primo è non c'è nessuna offerta, non ti preparo nessuna offerta chilometrica con mega slide, mega dati, mega cose, non c'è nessuna offerta subito. Ti do prima gli estremi, mi dici se siamo più o meno allineati, capiamo se c'è il budget giusto, capiamo se sei tu quello che decide o se poi ci sono altri mille passaggi. Quando c'è un go vero, a quel punto ti faccio la bella offerta formale. E numero due, ci diamo una data di scadenza molto chiara, se entro quella data troviamo un match, lavoriamo insieme. Se no, eh, arrivederci e grazie. Lo so che quando dico ste cose la gente dice, cazzo però così perdo dei clienti, così perdo dell'opportunità. Ne arriveranno altre, ne troveremo altre, ma intanto abbiamo il grande vantaggio di lavorare con della gente che non ci fa perdere tempo, perché se ti fa perdere tempo prima di iniziare a lavorare insieme, immaginati quanto tempo ti farà perdere quando inizi a lavorarci. Preferisco 1350 miliardi di volte perdere dei clienti di questo tipo, piuttosto che passare la vita lavorativa a perdere tempo dietro qualcuno e farmi un fegato grande così. Grazie. Grazie. Grazie.